Salve, sono il Vigilantes addetto al ritiro dell'incasso. Così si sarebbe presentato questa mattina agli addetti delle casse ticket e gli ospedali riuniti un uomo che indossava la divisa della ditta di vigilanza che ha l'appalto con il nosocomio d'aulo. Il Fido Vigilantes, presentando anche un tesserino di riconoscimento, ha chiesto di ritirare i plichi di denaro, come avviene ogni giorno. Così il personale ha consegnato due plichi contenenti circa 12.000 euro. Intorno alle 11 alle casse ticket si è presentata un'altra guardia giurata, questa volta quella vera, chiedendo anche lei i plichi. Solo allora si è capito della truffa e del furto messo in atto. Ammonta, come detto, a circa 12.000 euro il bottino, l'incasso del fine settimana delle casse ticket. Sull'accaduto stanno ora indagando gli agenti della squadra mobile di Foggia che stanno verificando anche le immagini della videosorveglianza degli ospedali riuniti per cercare di identificare il ladro. Anche se si rimane sconcertati dal fatto che si possa mettere a segno un furto di ben 12.000 euro in modo così semplice.